we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi pian piano ci stiamo già avvicinando alla settimana numero 2 di questa season 9 di fortnite una season che è stata capace per quanto riguarda la maggior parte degli utenti della community di farsi apprezzare nonostante i bug ahimè non manchino ragazzi ed oggi infatti nel video ne vedremo alcuni con le relative soluzioni parleremo infatti ragazzi del nerf del fucile a pompa o meglio del buff del fucile a pompa se volessimo essere precisi perché epic games si è accorta di qualcosa che non andava e quindi ha deciso di fare dei ritocchi molto molto interessanti per una delle armi tuttora più discusse dall'inizio della season risalendo oramai a cinque giorni fa ma ragazzi notizia delle notizie i rimborsi me lo avete chiesto da sempre io stesso avrei voluto fossero di nuovo reintrodotti ci sono novità incredibili che arrivano ufficialmente dai dagli sviluppatori di epic games relative ai rimborsi e ovviamente ragazzi una bella carrellata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano nello shop il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per shoppare con il mio codice e per sostenere il canale non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live a prima raga la domandina raga ve la devo ve la devo fare la domandina quella che vi faccio in ogni video ci tengo tantissimo ai vostri commenti qua sotto ed è una domanda che secondo me dividerà le vostre idee ma preferisci il pompa nuovo o il pompa del nonno minchia che domanda dai raga voi quale preferite io il pompa del nonno raga io c'ho un attaccamento al pompa del nonno che mi viene da piangere ancora adesso voglio sapere invece se voi vi trovate meglio con quello nuovo o vorreste indietro quello vecchio ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito subito a parlare di un argomento che è tuttora ancora molto molto richiesto il deltaplano arcana voi lo sapete ragazzi nella chiusura della season 7 c'è stato l'evento quello di sponde del saccheggio c'è stato un problema ovvero sia un sacco di giocatori hanno avuto un bug che non gli ha permesso purtroppo di vedere in tempo reale e di vivere l'evento epic games ha detto e lo sapete benissimo che avrebbe regalato a tutti coloro che furono presenti all'evento il deltaplano arcana ragazzi non vi preoccupate perché alcuni di voi mi hanno detto io c'ero ma non l'ho ricevuto ci sono problemi ancora ovviamente da parte di epic games i tempi in cui daranno i deltaplani si sono allungati quindi non vi preoccupate se eravate presenti nel giro di una manciata di giorni dovreste ricevere assolutamente il deltaplano questo era perché volevo proprio informarvi essendo un post su reddit che ha specificato che arriverà senz'altro a tutti altra notizia molto importante ragazzi la vedete alle mie spalle una delle skin più interessanti a parer mio anche una delle più belle ottenibili al di fuori di fortnite stesso è la skin honor guarda ci fu un problema oramai un mese e mezzo fa cioè vennero trapelati dei codici per la skin honor in modo che tutti quelli che lo ottennero anche se non comprarono il l'honor il telefono honor ebbero la skin ragazzi sistemato il bug finalmente data ufficiale rilasciata direttamente da honor france la skin sarà nuovamente disponibile dal 21 maggio quindi se avete il vostro honor e non avete ancora riscattato la skin aspettate 21 maggio data ufficiale dove verrà reintrodotta finalmente e quindi resa disponibile per tutti quelli che non l'hanno ancora riscattata ma andiamo finalmente a parlare del nuovo fucile a pompa ragazzi un'arma che davvero ha diviso a metà l'universo dei giocatori di fortnite essendo appunto stata introdotta al posto del fucile a pompa del nonno arma storica del gioco il problema è che molti hanno notato qualcosa che non funziona con il nuovo shotgun ragazzi ci sono problemi molto gravi nei danni a distanza ravvicinata cioè spesso e volentieri si toglie 25 nonostante si colpisca con tutta la rosa di proiettili un avversario anche da distanza davvero molto molto ravvicinata il che rende questo fucile a pompa è oramai quasi obsoleto e sostituito dal grandissimo tac ragazzi abbiamo un messaggio direttamente un tweet ufficiale di fortnite che dice abbiamo rilasciato un micro update probabilmente dovreste averlo già scaricato se avete riavviato fortnite nelle ultime ore dove il fucile a pompa da combattimento faceva dei danni inconsistent damage vuol dire faceva dei danni non veri in poche parole continueremo comunque a monitorare l'arma in questione e cercare di sistemare altri problemi qualora ce ne fossero ragazzi da oggi dovrebbe essere più forte dovrebbe essere un vero fucile a pompa degno sostituto del pompa del nonno quindi diamogli un'altra chance proviamo a giocarlo in queste ore e vediamo se davvero epigames è riuscita a risolvere un problema che lo affliggeva e che lo ha e che lo sta facendo iniziare ad odiare alla maggior parte dei giocatori io stesso l'ho sostituito con il tac ma andiamo avanti ragazzi ed ecco finalmente l'argomento più interessante del video ovvero sia i rimborsi cosa sono i rimborsi perché magari qualcuno non lo sa ragazzi se fate un acquisto errato nello shop che sia una skin un ballo un deltaplano un piccolo qualsiasi cosa tranne l'acquisto del pass battaglia stesso avrete la avete la possibilità di rimborsarlo per tre volte nella vostra carriera di fortnite molti giocatori come me quando inserirono i rimborsi oramai penso parliamo della season 5 io personalmente me li sono bruciati tutti e tre il primo giorno cioè ho restituito ho rimborsato delle skin o dei deltaplani e automaticamente mi sono stati dati i vbux corrispondenti il totale esatto cioè senza perdere una skin costava 2000 rimborsata me ne hanno ridatti 2000 il problema è che come vi ho detto i rimborsi erano tre ma sembra ragazzi con questo post pubblicato su reddit dall'utente dan da da dan dan che non è altro che uno degli ingegneri ufficiali del team di ep games che stia per tornare il bottone undo che cos'è il bottone undo undo in poche parole in inglese vuol dire tipo tornare indietro ok vuol dire che sarà possibile molto probabilmente dalla patch 9.10 che dovrebbe essere quella in arrivo non sappiamo se questa settimana o martedì prossimo che darà nuovamente la possibilità di annullare un acquisto errato probabilmente nell'arco di 24 ore dall'acquisto stesso il che ragazzi vorrebbe dire che i rimborsi in un modo o nell'altro stanno tornando e sarebbe davvero una grandissima notizia per tutti quelli come me che hanno piacere a riavere qualche vbucks extra il problema è semplicemente che se fosse vera questa se fosse vera se fosse introdotto il pulsante undo non potrete restituire gli oggetti se non quelli acquistati nell'ultimo giorno quindi un acquisto davvero sbagliato è pur sempre una specie di rimborso non è come quello che tutti abbiamo provato quando uscirono i tre rimborsi a vita però ragazzi da me si dice piuttosto che niente sempre meglio qualcosa che niente da ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi questo video news mi raccomando bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale codice creator xiodarone noi ci vediamo alle 13 live ciao 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 ciao